101 donne uccise in 10 anni in Toscana, 18.939 richieste di aiuto ai centri antiviolenza e 16.686 giovani che hanno visto le madri subire violenza in casa dal 2009. Questi numeri sono la punta dell'iceberg sviscerato dal nono rapporto sulla violenza di genere della regione toscana presentato a Firenze nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La Toscana è all'avanguardia nel sostegno alle vittime, hanno detto esperti e ricercatori, ma tanto resta ancora da fare, se solo per fare un esempio, dal 2013 a oggi gli accessi nei punti Codice Rosa sono stati 10.219 e il numero di vittime di violenza sotto i 18 anni è salito da 11 a 23 in due anni. Sembra che grazie appunto all'integrazione della rete, all'attività che sta svolgendo sia sul territorio sia nelle scuole, il fenomeno stia emergendo un po' sempre di più, quindi vi è un'attività di prevenzione che consente anche alle giovani di prendere coscienza di quelli che sono i propri diritti e soprattutto di riconoscere quello che è un po' la violenza, come si nasconde la violenza di genere anche nei comportamenti, negli atteggiamenti, nelle parole per esempio dei loro cotani. Il rapporto prende in considerazione anche le reti territoriali di sostegno alle vittime di violenza, dalle 20 case rifugio e indirizzo segreto allo stesso Codice Rosa che ha registrato un più 6,7% di accessi nell'ultimo anno, fino ai consultori che nel 2016 hanno aiutato 596 donne. Su questo insieme di reti si concentrano ora le proposte contenute nel rapporto. Sono reti molto solide che però dal punto di vista della ricerca devono essere omogeneizzate, nel senso che all'interno della regione vengono fatte tantissime azioni, però ogni territorio appunto ha una modalità operativa diversa. Quindi il lavoro che noi abbiamo fatto è quello di suggerire anche in futuro una maggiore omogeneità. Ora la regione finanzierà con 866.789 euro nuove case rifugio e case di seconda accoglienza, ma la soluzione prioritaria resta una sola, estirpare gli stereotipi su cui i comportamenti violenti trovano modo di esistere. Grazie a tutti.